Come creare facilmente un fan game di FNAF Perché prima di tutto i metodi che vi insegnerò non saranno esattamente i metodi che ha utilizzato Scott per creare FNAF Sono dei metodi che ho imparato io e che tra l'altro ho semplificato ancora di più per riuscire a fare la serie più semplice possibile In modo che tutti potessero comprendere le meccaniche e come effettivamente creare un fan game di FNAF Ora, perciò ragazzi, quello che vedremo in questa serie non sono nemmeno le basi di Clickteam Fusion Sono le basi delle basi delle basi delle basi di Clickteam Fusion Quindi sì, è una serie proprio semplice 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 Anche con nessuna esperienza nella creazione di giochi e nell'utilizzo di questi programmi come Clickteam Fusion potete farcela Perciò ragazzi, allora, intanto un paio di specifiche sul programma Io per questa serie utilizzerò Clickteam Fusion 2.5 base Come potete vedere anche da qua sopra, vedete Clickteam Fusion 2.5 Ragazzi, quello base perché è tutto quello che ci serve, ok? Esistono varie versioni in realtà di Clickteam Fusion e di Clickteam Fusion 2.5 Per l'appunto di Clickteam Fusion 2.5 vi sono Clickteam Fusion 2.5 che è questo qua normale, rosso Poi vi sarebbe Clickteam Fusion 2.5 Free Edition che sarebbe la versione gratuita di Clickteam Fusion ed è color grigio E poi invece c'è la versione Clickteam Fusion 2.5 Developer che è la versione invece viola Ora, qual è la differenza tra queste tre versioni? Clickteam Fusion 2.5, questo qua rosso, è quello normale Poi, la Free Edition ragazzi, io vi consiglio di non utilizzarla perché c'è molta molta meno roba È molto molto limitato, ci sono molte cose che non ci sono ma che sono cose essenziali per creare un fangame di FNAF ragazzi Perciò, ok, è gratuito, però se lo volete utilizzare ragazzi non potrete fare molte delle cose che invece dovremo andare a fare Già anche perché per esempio nella Free Edition avete un numero limitato di oggetti da inserire Un numero limitato di frame che potete creare, è molto limitata, perciò è gratuita però non potete farci praticamente niente È proprio, è molto una versione di prova e basta, capito? Quindi vi consiglio di non utilizzare quella E invece la versione viola, ovvero Clickteam Fusion 2.5 Developer Non è altro che Clickteam Fusion 2.5 però con alcune feature in più che non so nemmeno quali siano Ma l'unica cosa che so è che non ci servono per creare un gioco di FNAF, un fangame di FNAF Perciò potete tranquillamente utilizzare Clickteam Fusion 2.5 normale, questo qua rosso E siete a posto, poi voi utilizzate quello che volete e naturalmente vi adatterete a seconda del programma che utilizzerete Semplicemente io vi consiglio di non usare la Free Edition perché appunto molte cose non le potete fare Ma vabbè, a questo punto direi di avere un pochino detto quello che dovevo dire Perciò possiamo effettivamente iniziare, ma prima di iniziare ragazzi c'è una cosa che vi devo mostrare È uscito FNAF, ok? È stato visto molto positivamente ragazzi, perciò sono felice di questo Ma ragazzi, guardate un po' qua cosa c'è adesso sulla nostra pagina GameJolt di Studio Meme ragazzi Ebbene sì, quello lì è un nuovissimo progetto al quale stiamo lavorando E come potete ridurre e come ho scritto su Instagram, seguitemi su Instagram così potete avere tutto Se mi seguite su Instagram ragazzi potete sapere tutte le cose in antice Poi prima ancora che le metto sul canale, perciò seguitemi su Instagram Comunque ragazzi, quello che vedete qui è un progetto super ipersecretissimo A tema Five Nights at Freddy's che sta per arrivare ragazzi Perciò tra poco riveleremo di che progetto si tratta Forse alcuni di voi potrebbero già saperlo perché potrebbero aver visto me parlarne da qualche parte Non lo so, dipende, io questo non lo so Ragazzi, semplicemente andate a seguire quella pagina perché quando verrà rivelata vorrete di certo saperlo E quindi ok, comunque sì, è un fangame di FNAF ragazzi E sì, è collegato a Five Nights at Freddy's ragazzi È collegato a suo modo a Five Nights at Freddy's Perciò fate le belle cose Comunque ragazzi, direi di iniziare, direi di iniziare Clicchiamo qui per aprire un nuovo progetto Ed eccoci qua Ora, primissima cosa che vi consiglio di fare ragazzi Qua avrete due finestre, queste due finestrelle che sono il Workspace Toolbar e il Properties Toolbar Quello che vi consiglio di fare è prendere questa qua e trascinarla qui In questo modo, così da tenerla qua sotto Questo perché? Perché ragazzi, tenerla qua sotto sarà molto più comodo mentre lavoreremo Ve lo dico ragazzi, sarà molto più comodo perché in questa finestra, in questo momento, non ci sono molte cose Però quando saremo in una fase più avanzata della creazione del gioco, credetemi, ci saranno un bel po' di cose in questa finestra E per l'appunto avrete bisogno di scorrere la finestra per vederle tutte, no? Mentre se la tenete qua sopra non potete scorrerla Perciò quello che vi consiglio di fare è tenerla qua giù E per l'appunto, a cosa ci serve questa finestra? In questa finestra ragazzi noi vediamo tutti i frame di gioco Ora, quello che probabilmente insomma voi con frame potrete pensare a tipo i frame di un video Però ragazzi, in Clickteam Fusion i frame non sono quelli e in generale nei videogiochi i frame non sono quelli Quelli lì sono frame nei video, nei videogiochi il frame è un'altra cosa Infatti il frame di animazione nel gioco si chiama in realtà sprite, come di certo molti di voi sapranno E perciò ragazzi, quando ci riferiremo a quel tipo di frame, quello dei video per l'appunto, lo chiameremo sprite, lo sprite di animazione Mentre invece questi tipi di frame ragazzi sono, non sono niente po' di meno ragazzi che le stanze che abbiamo in un gioco E con stanze intendo le varie schermate che ci sono nel gioco ragazzi Perciò ragazzi, per farvi capire Per esempio, adesso creo tipo qualche altro frame, no? Per farvi vedere Potete creare altri frame cliccando sul numero e vedete che vi si crea il frame ragazzi Questa qua sarà per esempio la schermata con le avvertenze, no? Le avvertenze quelle tipo Warning this game contains flashing lights, loud noises and lots of jumpscares, no? Quella lì Poi questa qua sarà il menu principale, no? Questa qui sarà invece il giornale, il foglio di giornale Questa qua sarà la schermata con scritto notte 1, capito? Poi, non so, un'altra invece sarà l'ufficio, capito? E così via Perciò i frame sono queste cose qua E per l'appunto voi ragazzi, come potete vedere, io man mano che creavo i frame Qua si sono aggiunte le varie finestrelle Perciò, vedete perché noi a un certo punto andremo ad avere molte finestrelle qua E avremo bisogno di scorrere questa schermata Quindi sì Comunque ragazzi, parliamo invece di questa schermata qua sopra Questa schermata qua sopra ragazzi è la schermata delle proprietà Qualsiasi cosa voi cliccate sul programma vi dirà le sue proprietà Tipo se cliccate sul frame vi dice le proprietà del frame Se cliccate su un oggetto, come dopo vedremo, vi dirà le proprietà dell'oggetto E se cliccate su application vi dirà le proprietà dell'applicazione Che è il programma appunto che stiamo andando a creare E prima di iniziare a creare il gioco Dobbiamo impostare un paio di cose appunto nell'applicazione Quindi ragazzi, primissima cosa è la risoluzione del gioco Che noi vogliamo essere come la risoluzione dello schermo, no? Ovvero 1280x720 Mentre invece, come potete vedere, Grifting Fusion la crea in 640x480 Infatti noi cliccando qui possiamo vedere, vedete, finestra dimensioni 640x480 A noi così non piace, noi la vogliamo 1280x720 Così sarà schermo intero Perciò clicchiamo qui e scriviamo 1280x720 Facciamo invio Ora vi aprirà questa schermata ragazzi Che vi chiede se volete che anche i vari frame che abbiamo qui siano della stessa dimensione Voi ragazzi potete cliccare su sì o su no è indifferente Ma vi consiglio di cliccare su no Perché ci serviranno anche altri frame in futuro Che siano di dimensioni diverse Perciò è meglio che le sistemiamo a mano le dimensioni dei frame Adesso infatti andremo a sistemarle Prima cosa però, prima cosa da fare ancora prima di andare a lavorare sui frame Cliccate qua su applicazione E rinominatela Rinominatela Infatti questo, noi non vogliamo che il nostro gioco si chiami applicazione 1 Vogliamo che abbia il suo nome Per esempio chiamiamolo, non so, Five Nights at Clickteam Fusion Vai, mi sento originale Ok, abbiamo il nome del nostro gioco Vedete qua, perfetto A questo punto possiamo già salvare un primo file del gioco Ok? Possiamo già fare qualcosa del genere Perciò noi possiamo salvare questa prima base che abbiamo Facciamo file Save Oppure possiamo cliccare qui E adesso che lo faremo naturalmente non dovremo fare altro che Scegliere un posto dove salvarlo Vi consiglio di creare una cartella dove tenere tutti i file di gioco Compreso appunto il file MFA Che sarebbe appunto il salvataggio Naturalmente dategli il nome giusto Quindi in questo caso Five Nights at Clickteam Fusion Eccolo qua E lo salviamo Ora ragazzi possiamo parlare dei frame Il primo frame sul quale andremo a lavorare Sarà appunto la schermata di warning La schermata con le avvertenze riguardo al gioco Perciò noi clicchiamo qui La rinominiamo La rinominiamo Warning Ecco qua E impostiamo le dimensioni della schermata naturalmente Quindi 1280 Per 720 Ecco qua Ce l'abbiamo Ora cliccando due volte possiamo aprire il nostro bel frame Vedrete che è tutto bianco Voi andate qui Zoomate indietro Ed ecco che abbiamo il nostro frame Ora come potete vedere Il frame è costituito da una parte di sfondo Una parte bianca E una linea tratteggiata Che adesso si vede soltanto in questi due contorni Ma vi assicuro che c'è anche di qua Solo che essendo che è della stessa identica misura del frame Naturalmente non possiamo vederla tutta Ora vi spiego cosa sono tutte queste cose Allora La parte di sfondo sarebbe la parte di frame Fuori dal frame attivo Diciamo Ci sono un frame attivo e un frame passivo Possiamo chiamarli così Il frame attivo sarebbe quello bianco E la parte bianca sarebbe la parte che noi vorremmo essere Che sia inquadrata Magari non tutta Però comunque di solito è la parte che vogliamo che sia inquadrata La parte invece di qua Questa di sfondo È la parte dove andremo a mettere tutte le cose che non vogliamo che si vedano Per esempio contatori Oppure animazioni secondarie che vogliamo che servano da timer Vedremo tutte queste cose State tranquilli La linea tratteggiata invece è letteralmente l'inquadratura del gioco L'inquadratura del gioco che noi vediamo Infatti vedete in questo momento sia il frame che il gioco sono in 1280x720 E vedete che i bordi coincidono Se io per esempio andassi a cambiare tipo 1280 lo cambio in 300 Facciamo così Vedete che adesso l'inquadratura Vedete adesso questa qui si è rimpicciolita Adesso l'inquadratura del gioco è soltanto questa Naturalmente è un solo esempio Noi non la vogliamo così Perciò 1280 Boom Ecco qua Perfetto Tenete lo zoom come più vi piace Magari avete uno schermo anche più grande E potete tenerlo anche a 100 Comunque io lo tengo a 50 Perché a me va bene a 50 Allora Primissima cosa Che vogliamo fare Innanzitutto Introdurvi Ragazzi Agli oggetti che utilizzeremo Cliccando col tasto destro Sulla parte di sfondo O anche sul frame Io di solito lo faccio sulla parte di sfondo così Perché mi piace Qua vedete ci sono varie azioni che possiamo compiere E l'azione che andremo a utilizzare di più è naturalmente Inserisci oggetto Perché noi non dobbiamo fare altro che inserire oggetti A cui dopo dobbiamo dire cosa fare Cliccando inserisci oggetto Noi abbiamo qua una lista di svariati oggetti Ora È pieno di oggetti Ma ragazzi Di tutti questi oggetti Noi ne utilizzeremo al 90% questo Ovvero l'oggetto attivo Al 90% utilizzeremo sempre questo Gli altri non li utilizzeremo quasi nessuno Tranne Allora Utilizzeremo al 90% gli oggetti attivi Quasi sempre Praticamente sempre Poi ogni tanto avremo bisogno dei counter Avremo bisogno dei counter E il contatore appunto ci serviranno In futuro vi dirò a cosa servono E Ragazzi c'è un oggetto molto particolare Che utilizzeremo Nell'ufficio Perciò per adesso non ci serve Ma intanto potete procurarvelo Che è L'oggetto di prospettiva Che è quello che dà l'effetto tridimensionale all'ufficio Anche se in realtà è in 2D Ora Questo oggetto ragazzi Voi non ce l'avete Non ce l'avete Perché è da inserire Essendo che non è un oggetto creato Da Da quelli che hanno creato Clickteon Fusion È una cosa da inserire dopo Come si fa a inserire questo oggetto ragazzi Allora Primo Se state usando la free edition di Clickteon Fusion Questo oggetto non lo potete avere Punto e basta Non potete neanche inserirlo ragazzi Perché La free edition non ve lo fa avere Perciò ragazzi Ecco perché vedete Non potevate utilizzare la free edition Per l'appunto Comunque per inserirlo Dovete andare su manager Vi aprirà questa schermata Adesso vedrete che si sta caricando E ci sono un casino di oggetti supplementari Che voi potete inserire nel vostro gioco Voi in questo momento dovrete Cosa dovete fare Dovete scorrere fino alla P O comunque cercatela direttamente qua nella barra Che fate prima Cercate Perspective Ora In questo momento voi ragazzi Come potete vedere A me Da In mezzo agli oggetti già installati Perspective object Per l'appunto Perché io ce l'ho già installato Voi non l'avrete installato Perciò ve lo farà vedere qui In not installed Ok Voi cosa dovete fare Dovete cliccare su install Infatti adesso Voi vedete che Vicino a tutte le cose C'è la scritta install Clicchate su install Lo installate E una volta che l'avrete installato Sarete a posto E dovrebbe comparirvi Dentro Insieme qua Tutti questi oggetti Comunque andremo a guardarlo dopo Per adesso ci saranno gli oggetti attivi E per l'appunto Iniziamo a mettere il nostro primissimo oggetto attivo Clicchiamo ok Che è lo sfondo ragazzi Adesso noi Per farlo Il cursore Quando cliccheremo ok Diventerà una freccettina Noi decidiamo di far spawnare Il nostro oggetto attivo qui Cliccando Ed eccolo qui Questo è il nostro oggetto attivo E adesso lo faremo diventare Lo sfondo Come si fa? È molto semplice Allora Quindi clicchiamo due volte Sull'oggetto attivo E ci apparirà appunto Tutta questa roba qui Allora Quello che abbiamo qui ragazzi È letteralmente L'immagine del nostro oggetto Quello che abbiamo qua sotto ragazzi Non vi interessa per adesso Vi interesserà dopo Lo vedremo dopo Ve ne parlerò dopo Comunque riguarda le animazioni Ma Guarderemo dopo Allora Prima di tutto vogliamo cancellare questa immagine Perciò Clicchiamo su questo Icona qui Ed ecco che viene cancellata Poi prendiamo l'oggetto di riempimento Prendiamo il colore nero Che è già selezionato Potremmo Possiamo prendere Voi naturalmente Prendete il colore che volete Io adesso faccio le robe In modo molto basilare Molto nello stile classico Di Five Nights at Freddy's Poi naturalmente Voi imparando queste cose Potete fare quello che volete Tipo se all'inizio Volete mettere il vostro logo Non so Robi così Fate quello che volete Capito Comunque Colore nero Per l'appunto Aspetta mi piace di più Questo nero Penso che sia Esatto Questo nero è più nero Ok Facciamo ok Il nostro oggetto Vedete ha cambiato immagine Ora ragazzi Quello che vogliamo fare È muoverlo E metterlo allineato Con lo schermo E poi ingrandirlo Per metterlo sempre allineato Con lo schermo Naturalmente Noi non possiamo fare Tipo che Ci mettiamo così A contare Pixel per pixel Fino a quando non pensiamo Che possa essere allineato Non possiamo di certo fare così Perciò ragazzi Voi andate qui E cliccate su questo qua Ovvero Snap to create Clicandolo Vedrete che adesso L'oggetto non si muove più liberamente Ma si muove Seguendo una griglia invisibile Per l'appunto Questo ragazzi Vi serve per allineare bene gli oggetti Vedete Che si è allineato perfettamente Adesso cosa facciamo Noi clicchiamo due volte Separatamente L'oggetto E lo possiamo ingrandire Lo ingrandiamo Anche magari più della finestra Non ci interessa più di tanto In questo caso Perché anche la parte fuori della finestra Comunque non verrà inquadrata Tipo posso farlo lungo così Capito Non mi interessa Ma Per farvi avere un'immagine migliore Lo metterò Più o meno Quanto grande dovrà essere Eccolo qui Abbiamo già il nostro sfondo Ragazzi Adesso invece Dobbiamo fare Cosa dobbiamo fare Dobbiamo inserire la scritta Appunto Warning This game contains Blablabla Voi potete inserire quello che volete In realtà c'è un modo Per inserire le scritte Già in Crypt infusion C'è modo Capito Ma Io Non amo farlo O almeno Prendiamo il testo bianco Adesso cosa dobbiamo fare Non dobbiamo andare a disegnare la scritta Dobbiamo sostituire questa immagine Con la nostra immagine L'immagine della scritta Come si fa? Noi dobbiamo andare qui Sull'immagine della cartella E importarla Selezioniamo il nostro file Vedete Questa è la nostra immagine Con la scritta Vedete Eccola qui Potete scorrere per vederla Quello che dobbiamo fare Ragazzi Adesso è una cosa importante Poi vedete questa finestrella Qui colorata Questo qua è il colore Che il gioco O meglio È il colore che il programma Elimina Dall'immagine Questo cosa vuol dire? Vuol dire Che Se per esempio Nell'immagine c'è del nero In questo momento è selezionato il nero Se nell'immagine c'è del nero Quando clicchiamo su ok Quel nero scomparirà dall'immagine Ora Noi in questo caso Non vogliamo che scompaia del nero Ma vogliamo che scompaia del viola Infatti Il sfondo viola L'ho messo apposta Per farvi questo esempio Per eliminare il colore Ora Noi possiamo selezionare il viola Anche da questa griglia Ma in questo caso Noi facciamo pick Clicchiamo qui E vedete Seleziona già automaticamente il viola Facciamo ok E vedete che Il programma ha eliminato Lo sfondo viola Infatti vedete che c'è soltanto la scritta Si legge a malapena Comunque vedrete che si leggerà bene Qua si legge male Perché lo sfondo è bianco e grigio Allora A voi potrebbe non levarla già da subito Perché è una cosa Che incomincia a fare automaticamente Il programma dopo un po' di tempo A voi potrebbe lasciarvi lo stesso colore Voi cosa dovete fare in quel caso? Dovete cliccare su quest'icona Forma di pesce E cliccare su transparent color Nel vostro caso Sarà selezionato alpha channel Vi cliccate su transparent color Cliccate su ok Vi dovrebbe aprire una finestrella Per confermare E ecco che vi arriverà appunto Questo effetto Quindi in questo momento Facciamo su ok Vedete che abbiamo il nostro oggetto qui Ora Piccola cosa Voi vedete che in questo momento La cronice dell'oggetto è grande Quanto effettivamente è l'immagine reale Però se noi clicchiamo qui per spostarla Vedete che non fa niente Non ce lo sposta Perché noi dobbiamo cliccare Sulla scritta In questo caso Questo perché? Perché Clicked Infusion si ricorda Quali sono le effettive dimensioni Dell'oggetto Capito che sono queste qua Però noi abbiamo eliminato Questa parte di oggetto Letteralmente Eliminando quel colore Abbiamo eliminato Una parte di immagine Quindi è come se questa parte Non ci fosse E perciò Clicked Infusion Non la considera La parte che c'è veramente È appunto Quella che abbiamo lasciato E in questo caso È la scritta Perciò noi dobbiamo Cliccare sulla scritta Per muovere l'oggetto Allora Lo allineiamo Per bene qua E abbiamo già la nostra schermata Ragazzi Avete visto? Abbiamo già La nostra schermata Ora In questo momento Io ce l'ho allineato Già perfettamente Perché appunto Prima ho creato un'immagine In 1280x720 E ho messo la scritta al centro Perciò è già bene allineato Voi magari Non avete creato Un'immagine più piccola E perciò non potete allinearlo così Capito no? Facciamo finta che L'immagine sia più piccola E perciò non posso allinearlo Basandomi sulle dimensioni reali Dell'immagine Come posso fare Per metterlo esattamente Al centro? Allora O faccio così E lo muovo Capito io Ma è un po' scomodo O faccio in questo modo Clicchiamo col tasto destro Facciamo Align in frame Horizontal center Poi facciamo Sempre Align in frame Vertical center Ecco qua Adesso noi abbiamo allineato Il nostro oggetto Nel centro orizzontale E verticale Dello schermo O meglio del frame E quindi appunto Il centro del frame Letteralmente E quindi ok Abbiamo già La nostra immagine Avete abbiamo già creato L'immagine Di Di precauzione L'ultima cosa Che vogliamo fare Con questa immagine È tornare qui Al frame All'elenco dei frame E aggiungere un effetto Di uscita Infatti noi vogliamo Che quando Quando vi sarà Una transizione Da questa immagine Da questa scritta Al menu principale Vogliamo che Quest'immagine Scompaia lentamente Nell'oscurità E poi che compaia Di colpo Per esempio Per fare un esempio Il menu principale Poi ciò cosa facciamo Noi clicchiamo qui Su transizione di uscita E aggiungiamo Una transizione La transizione Che dobbiamo aggiungere Qua ce ne sono un casino In questo caso Io utilizzerò Fade Eccolo qua Fade Facciamo ok A questo punto Vedete che In uscita Questo frame Ha un fade Ha un fade out A questo punto Cosa facciamo Per questo tutorial Non ho intenzione Di mostrarvi Troppa altra roba Ma Prima di finire il tutorial Dobbiamo ragazzi Vedere un'ultima cosa Ragazzi Vi introdurrò Al Event editor Di Clicked Infusion Cos'è l'event editor Allora voi qua Avete quattro icone Di queste quattro icone Ve ne interessano tre Che sono Questa qua Per l'elenco dei frame Poi Questa qua Per questa immagine Questa facciata qui Ovvero per editare il frame E questa qua Per gli eventi Ora ragazzi In questo momento Voi avete davanti Letteralmente Quello che deve succedere Nel gioco Ovvero per adesso Niente E vi farò vedere Vi farò vedere Adesso come funziona Questa cosa Qua noi abbiamo Un elenco di azioni Di eventi base Che possiamo creare E un elenco Degli oggetti Che abbiamo nel nostro frame In questo caso sono due Ovvero lo sfondo E la scritta E qua invece abbiamo Delle condizioni Che possiamo aggiungere Ovvero noi possiamo dire Se si verificano Queste condizioni Quando si verificano Queste condizioni Tu Tu azione O tuo oggetto Fai questa determinata roba E per l'appunto In questo momento Noi vogliamo creare Una transizione Tra Questo frame E questo frame Cosa dobbiamo fare Quindi Noi diciamo che Quando il giocatore Cliccherà Da una qualsiasi parte Sullo schermo Dovrà Fare la transizione Dovrà passare Dal frame Questo qua Della schermata iniziale Al menu principale Come facciamo? Andiamo su Nuova condizione E andiamo qua Su questo qua Il mouse E la tastiera Ragazzi Ovvero azioni Che possono riguardare il mouse E la tastiera In questo caso A noi interessa Il mouse Dobbiamo dire Che quando Il giocatore Cliccherà Sullo sfondo La schermata Deve passare Da questa qui A quella del menu Perciò Clicchiamo su User clicks on an object Ovvero Il giocatore Clicca su un oggetto In questo caso L'oggetto Clicchiamo ok In questo caso L'oggetto sarà lo sfondo Eccolo qui Quindi lo senizioniamo Abbiamo lo sfondo Se il giocatore Clicca sullo sfondo Noi vogliamo che Andiamo qui Clicchiamo col tasto destro Vogliamo che il gioco Salti al frame Clicchiamo appunto Jump to frame 2 Che sarà il menu Come il menu Lo creeremo naturalmente Nel prossimo episodio Facciamo ok Quindi adesso cosa abbiamo Abbiamo già creato Il nostro primo evento Nel gioco Per l'appunto Quando il giocatore Clicca sullo sfondo Il gioco dovrà passare Al frame 2 Adesso andiamo direttamente A chiamare il frame 2 menu Chiamamolo Main Menu Eccolo qua Main Menu E chiamiamo anche la sua risoluzione Anche questo lo vogliamo Il 1280 Oddio Ho come so Cosa è scritto Il 1280 Per Appunto 720 Adesso aspettate un attimo Che la cambio anche A questi altri frame Eccoci qua Ora facciamo una cosa Vogliamo inserire un oggetto A caso in questo qua Giusto per ricordarci Giusto per riconoscere Che questo qua È il frame del menu Ok Noi quindi Adesso abbiamo questo piccolo Smeraldino qua Cosa vogliamo fare adesso ragazzi Vogliamo testare il gioco Perché già possiamo testare il gioco Allora Andiamo per esempio qui Adesso per farvi vedere una cosa Devo illustrarvi Queste tre icone Questa prima icona Non ci interessa Anche perché Non la possiamo cliccare In questo momento Le icone che ci interessano Sono queste due Quest'icona bianca Ci farà testare Il frame Che noi abbiamo Sotto mano In questo momento Se noi la clicchiamo Infatti Vedrete che partirà Il frame Che abbiamo Eccolo qui Ce l'abbiamo Vedete che se io clicco Non fa niente Per l'appunto Perché abbiamo solo questo frame E avendo soltanto questo frame Non possiamo appunto Passare da un frame all'altro Perché noi abbiamo cliccato Su testa il frame Non su testa il gioco Per passare da un frame all'altro Dobbiamo cliccare su testa il gioco Come facciamo Clicchiamo appunto qua Sull'altra icona Run application Clicchiamo Eccola qui Adesso se io clicco sullo sfondo Vedete c'è un fade out E poi passa qui Passa qui In questo momento L'ha caricato molto velocemente Perché per l'appunto Non c'è niente In questo frame C'è soltanto questo oggetto qui Che noi possiamo riconoscere Però ragazzi In futuro La caricare la schermata Un po' più lentamente Giusto qualche secondino Magari Perché appunto Aggiungeremo più cose Poi naturalmente Dipende anche Dalla velocità del computer E roba così In questo momento Comunque Cioè non è una differenza grossa Capito Giusto perché magari In questo momento Potevate vedere Una transizione molto veloce Magari la volevate più lenta Siete tranquilli Che si vedrà anche di meno In realtà Perché noi faremo Un menu nero E perciò naturalmente Avremo una transizione Che sembrerà più lenta Proprio all'occhio In generale comunque Vedete ragazzi In questo primo episodio Abbiamo fatto una piccola Introduzione Piccola insomma Abbiamo fatto un'introduzione Al programma Di Clicked Infusion E abbiamo imparato Già come inserire oggetti Come muovere oggetti Come impostare immagini E come già creare Un piccolo evento Di transizione Ragazzi Come avete potuto vedere Naturalmente Nel prossimo episodio Creeremo il menu principale E vi spiegherò bene Cosa sono Queste cose qui Questi Vari comandi Che abbiamo qua sopra Vi spiegherò tutto Pian piano Man mano che li utilizzeremo E niente ragazzi Io direi che siamo a posto Iscrivetevi al canale Se non lo avete ancora fatto E Ultimissima cosa ragazzi Facciamo un patto Voglio Voglio creare un patto Con voi ragazzi Allora Io vi insegno Come creare un fan game Di FNAF Ok Però Voglio che almeno uno di voi Crei Five Nights E te lo ha il tv Ok Me lo aspetto È un patto Abbiamo fatto un patto Ragazzi Ok Va bene ragazzi Ci vediamo Ciao 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 Ciao